Vasi Luna controllo Shadow Avvistamento 248 Meno 18 minuti al decollo del moto Individuato UFO su rotta 248, 204, verbo Confermato UFO 248 Passiamo direttamente sul vostro computer Potete decollare Passiamo direttamente sul vostro computer Passiamo direttamente sul vostro computer Passiamo direttamente sul vostro computer base luna controllo shad come anche questo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Modulo 32 avvistato oggetto sconosciuto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti